La pagina spezzina di Avvenire in Edicola Domani apre con il messaggio del Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti alla Diocesi in vista del tempo di Quaresima. Un'alleanza rinnovata. Vivere in modo adeguato il tempo di Quaresima, un messaggio del Vescovo Palletti alla Diocesi. La necessità di tendere la mano ai più bisognosi rimane un'urgenza primaria. Molteplici sono le opere che possono essere compiute. A centro pagina, gli obiettivi della carità. Come sempre, la Quaresima di Carità invita persone e famiglie a destinare i propri anche modesti sacrifici quaresimali ad alcune situazioni di necessità. Quest'anno il Vescovo e la Caritas hanno proposto il sostegno per il dormitorio di Pegazzano, Locanda e il San Maritano, che la Caritas ha aperto nelle settimane scorse. E ancora. Festa patronale. Il Vescovo Brambilla, Nicola di Ortonovo. Nicola di Ortonovo ha celebrato la grande festa del suo patrono, San Guglielmo d'Aquitania. A fondo pagina, una giornata nel segno di Itala. L'ormai prossima beata è tra le figure femminili che hanno portato onore alla città della Spezia. Il prossimo 8 marzo ci sarà una giornata a lei dedicata. Dall'8 marzo alla Pasqua, l'arte accompagna la vita. Intensa attività dell'UCAI, Unione Cattolica e Artisti Italiani in questo inizio di marzo. Ieri alla Spezia sono state inaugurate due mostre. Una al Museo Diocesano di Via del Prione 126, l'altra nella sede di Via Don Minzoni 62. Queste le principali notizie che troverete domani nella pagina Spezzina di Avvenire.